benvenuti ad un nuovo episodio di tell me why l'ultima volta eravamo giunti davanti la casa dei due fratelli ed oggi scopriremo cosa è successo quella notte o forse sì forse no ok Cioè che poi Dal loro dialogo, no? Sembra più che È rimasta lei Traumatizzata Che ha avuto una famiglia Adottiva L'ha fatto dall'università E tutto quanto Che lui, che in realtà L'ha ammazzato, la madre Cioè, va Rimane un po' sconvolgente Questa cosa per me Beh, vado io Mamma mia Posso scrivere la sceneggiatura, regà Poi è strano Eh, appunto We're screwed You got a plan B Yeah We find another way in I never knew a locked door That could keep the crafty goblins out Yeah We had a million ways In and out of this old house At least one of them's gotta work Spasciamo le finestre Sì, vai Putta giù la finestra Sì Dai 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 Bravo Vabbè, dai Non può essere giusta Umial Tu sei e va Tu puoi correre? Sì. Sì, ma sono abbastanza inquietanti. Allora... Che cosa? What? No, basta, basta. Sì, scusa. Sì. E invece? Poi, cioè, sono travi. Io penso che siano state... inchiodate di... Cioè... Com'è possibile che... Sempre un cacciavideo. Comunque... Cioè, raga... Il banner amico qualcosa di... Spettacolare, tia. Ellison. Sempre in mezzo. Vabbè. Vicini, vicini. Cioè... 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 Qui di là dopo puoi andare a vivere il terreno di più da... C'è il terreno di più viata. No, dai. All right. Oppa là. Andiamo a cercare il cacciavite. Guarda, quindi in centro. Allora, verso qua. Non è dove ti chiuse. Niente. Eccolo. Che è successo? Che cosa strana? What? Allora, andiamo a cercare. Allora. 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 se c'avevo ragione. Allora. in realtà. Allora. 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 E' un po' che dice Oliver prima E' un po' che dice Oliver Ah, ha ha! Trovata! Non mi se da mangiare, il mio appass. Possiamo andare dentro casa Con il cacciavite E voilà E vedi sono chiodi Ma per la miseria E vado io come il solido E vado io come il solido È un'altra E vado io E vado io E vado io E vado io I'm going in for real this time Okay, see you at the front door in a few minutes Yeah. Oh, it's okay what happened just hit my head like an idiot wait wait where are you? Sì, guarda, guarda, sono chiamati, sono chiamati E io vado a destra, ahah, hai manarchico E poi ti esageravo Vedi, Olli 3 Ah, prendi Non so cosa sia, però vabbè Il cacciatore è matto Vabbè, veramente, lui prima si chiamava Olli E ora si chiama Tyler Quindi, avevo ragione io Ahah, un po' avanti Allora, io direi Andiamo di qua, andiamo di ciò qualcosa E lui uscì Wow, can't say I ever expected to see you again It's been a long time, buddy Lo lasci qua Quanto pare sì Palo Ecco lì, desauri Tante spi Ah, infatti, quindi Mi sa c'è avuto qualche problema con la madre Guarda, insomma, la sua Che solità Ah, questo è metà il cacciatore matto Ci assumi un po' E infatti C'è il cacciatore matto C'è il cacciatore matto Non è tipo Sembrava stanzione dove stavamo prima Ah, invece no Siamo entrati, ragazzi Siamo entrati a casa Comunque, cioè Sono 16 anni fuori A me sembra fin troppo pulita questa casa Cioè, sì, siete qualche bagliericcio Però veramente 10 anni è stata chiusa In teoria Nessuno ci è andato Fin troppo ordinata Tra l'altro Cioè, mi sarei immaginata Tutte ragnatele Tutto Brutto Ma è degli uccelli Orche ragno Orche tor Anche perché sta in mezzo al bosco pure Invece no È immaginata dentro Vabbè Cioè, lui l'ha presa Troppo bene Sto ritorno a casa Sì Ah, no Ok Tutto sopravviverò Allora Perché, dai Qualcosa sta a accusare Ah ma comunque Entramo Cioè, loro sono ritornati Per abbattare un po' a casa Per poterla vedere Però, insomma Sapevano così male O potevano chiamare Come si è iniziato Sì 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 La posto Va bene ragazzi Allora, per questo è tutto Per oggi E Nel prossimo episodio Andremo a fondo E noteremo tutti i dettagli Tutte le piccolezze Che possiamo trovare Dentro questa casa Per capire Per capire Vedere se troviamo altri ricordi E quindi vi saluto Alla prossima Ciao 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 Ciao